Ciao da Enrico, oggi parleremo di due fotografi, uno molto importante e conosciuto, Nobuyoshi Araki, e un altro meno importante, comunque sicuramente degno di nota, Mark Power. Buon ascolto sul podcast di Fotografi. Grazie a tutti. Come la pagina Facebook, Fotografi, oppure ricordo che questo podcast è ospitato dalla piattaforma Podbean, quindi fotografi.podbean.com dove ogni volta che posto un singolo podcast lo accompagno poi dopo con un breve articolo, con tutti i link tramite i quali è possibile poi dopo vedere le diverse foto a cui vi faccio riferimento, all'opera dei diversi fotografi. Poi esiste anche un blog che è fotografipodcast.wordpress.com, la fotografipodcast su Instagram, quindi i modi per poter dialogare, per poter trovare il modo di discorrere assieme di fotografi, non mancano. Ringrazio anche Spotify e iTunes che hanno, dopo aver esaminato il prodotto, dopo aver sentito questo podcast, hanno accettato che venga installato sulla loro piattaforma e quindi dopo questi primi ringraziamenti non ci resta che iniziare. Comunque, si è inaugurata ieri a Siena, presso il complesso museale di Santa Maria della Scala, una nuova ma grande mostra del maestro, Nobuyoshi Araki, un fotografo celeberrimo nato a Tokyo nel 1940, di cui ricordo ho visitato di recente una mostra a Berlino presso la sede d'esposizione CEO, è stata veramente un'esperienza particolare, molto interessante. In questo caso invece l'esposizione è organizzata dal Santa Maria della Scala, è curata da Filippo Maggia, che ha selezionato opere appartenenti a oltre 20 serie, prodotto dal fotografo giapponese dai primi anni 60 ad oggi. Allora, Araki ha voluto celebrare 50 anni di attività con una selezione di oltre 2200 opere che ripercorre la sua lunga carriera artistica. Viene offerto un panorama pressoché completo della sua sterminata produzione, che è assai complessa e articolata, ben oltre quelle immagini di Bondage, cioè di quelle donne svestite, seminude, completamente legate con corda, con dei nodi particolarmente complessi, Bondage è molto spesso scattato sotto formato di Polaroid, che l'hanno reso celebre in tutto il mondo e che ha invaso molte case d'aste negli ultimi tempi. Ci sono molte serie, tipo Satchin and His Brother Mabo, Sentimental Night in Kyoto, Uigust, Tokyo Autumn e altri ancora, che vengono presentate per la prima volta in Italia e alcune sono addirittura inedite in Europa, come Anniversary of Oksai's Death and Glows, nonché la raccolta Arachis Paradise. Questa raccolta qui, Arachis Paradise, in realtà sono fotografie che Arachis scatta utilizzando la sua casa come un palcoscenico, leggo dal comunicato stampa che è stata realizzata apposta per Siela. Quindi è un Arachis sempre comunque originale, riflessivo e emozionante che sembra voler riassumere in questa mostra la sua intera vicenda artistica e umana. Lungo il percorso espositivo troviamo un racconto dedicato a Satchin and His Brother Mabo, che sono due ragazzini vicini di casa di Arachis, sono immagini degli anni Sessanta, quindi proprio degli inizi, Subway of Love, che sono alcune fotografie scattate dalla metropolitana di Tokyo a cavallo degli anni Settanta, ritratti di donne eleganti e uomini giapponesi e le composizioni intitolate Arachis Lovers dagli anni Ottanta e Novanta, poi, vabbè, qui non poteva mancare una raffinata selezione di bondage, le immagini appartenenti a Tokyo Diary del decennio 2000-2010, un diario fotografico che Arachis aggiorna quotidianamente dal 1980 e la cronaca del 2017 intitolata Anniversary of Okusai Death, in onore del grande pittore e incisore giapponese Katsushika Okusai. Qui viene presentata in mostra la toccante sentimentale, appunto questo è il nome, Sentimental Journey, cioè il viaggio sentimentale in versione completa, che altri non è che il racconto del viaggio di nozze del fotografo con la moglie Yoko, riportata in 108 fotografie in bianco e nero, che viene proposta per la prima volta in Italia, anche l'altrettanto emozionante lavoro intitolato Sentimental Night in Kyoto. Poi ancora l'amante di agosto, dedicata alla modella Komari, e le fotografie realizzate in occasione dei 60 anni dalla fine della guerra, è una ventina di dittici della serie Tokyo Nude, architetture simboliche della capitale giapponese accostate a nudi femminili. Poi ci sono le immancabili polaroide che sono organizzate in tavoli, scatti che narrano del quotidiano Vivere dell'artista Tokyo. A proposito di queste polaroide, questa recente mostra a cui sono andate all'inizio dell'anno a Berlino, ce ne erano tantissime, mi sono rimaste impresse particolarmente le serie delle nuvole, cioè foto fatte assolutamente a caso, verso il cielo, nei momenti diversi del giorno, poi dopo riportate in maniera scomposta esposte una accanto all'altra, oppure foto a piante e a donne, in maniera diciamo caotica, ma con un certo metodo in questa follia. Ritornando alla mostra di Siena, ricordiamo anche la presenza del ciclo Tokyo Summer Story e quella Tokyo Autumn. Una è brillante e luminosa, come è la calda estate della capitale giapponese, la seconda è malinconica e intima, velata da luce crepuscolare. Poi ci sono, come abbiamo accennato, le composizioni floreali, che sono bellissime, per celebrare la bellezza e la caducità della vita. Viene anche presentata questa serie del Balcony of Love, fotografie organizzate sulla casa e animate alla presenza del gatto Ciro, insostituibile compagno di vita del fotografo giapponese. Bene, quindi diciamo che la mostra di Nobuyoshi, che è difficilissimo da dire, è molto più facile dire Araki, Nobuyoshi o Araki, è sicuramente un evento fotografico importante e è stato inaugurato giusto ieri pomeriggio e quindi per tutta l'estate, fino al 30 settembre, è visionabile. Io raccomando di vedere tutta la mostra, ma di sguardare con particolare attenzione l'interessante viaggio di nozze che viene documentato con queste foto molto ravvicinate della moglie e alcune sono suggestive, talvolta anche un poco decadenti, perché mi viene in mente che l'ossessione fotografica di Araki l'ha portato a documentare non solo i momenti felici del matrimonio con sua moglie Ioco, ma anche quelli peggiori. Di fatti nella mostra che vi di a Berlino, quindi non ho idea se ci saranno queste foto. a Siena mi ha particolarmente lasciato impressionato vedere come determinate situazioni, tipo proprio la stessa morte della moglie, sono documentate in maniera ossessiva e in maniera fotografica con degli scatti anonimi, crudi, fino a giungere al forno crematorio. Ci sono foto in cui molte foto di nudo, diciamo l'elemento vuoristico è quello che ha portato forse maggiormente acqua al mulino della conoscenza da parte del grande pubblico di questo fotografo. è interessante perché un determinato set di foto era intitolato la moglie e poi dopo il decesso della moglie invece numerose foto effettuate, si dice, anche nei quartieri a luci rosse di Tokyo, anzi sicuramente effettuate in queste zone, si intitola la moglie degli altri. Quindi, primo consiglio, primo suggerimento, andate a, cliccate sul nostro, sulla nostra pagina di photography.podbean.com per avere più informazioni dal punto di vista dell'apparato fotografico oppure andate sul nostro blog photographypodcast.votpress.com Il secondo fotografo di cui molto brevemente tratterò l'inglese Mark Power notizie di merito a Mark Power le ho tratte da un site che è il blog dedicato alla fotografia del Washington Post il quale recentissimamente, mi sembra il 17 di giugno ha pubblicato un articolo relativo al, diciamo, l'ultima fatica di questo fotografo il titolo dell'articolo del blog è Good Morning America lo stato dell'unione attraverso gli occhi del fotografo della Magnum Mark Power la Magnum, ricordo, è sempre quella grandissima agenzia fotografica che raccoglie, diciamo, la crema dei fotografi operanti che hanno lavorato negli anni passati che sono gli elementi di interesse che ho ricavato da questo articolo si tratta di un'idea che peraltro non è molto originale cioè vedere l'America tramite le foto questo chissà di fotografia molto più di me ricorda che ci furono anche progetti statali che va in tour negli Stati Uniti e scatta foto anche questa, diciamo, non è una grandissima novetà diciamo, mi viene in mente, ad esempio una merida di fotografi che c'era la Vanessa Winship scritto con la W che stampò un libro She Dance and Jackson uno dei libri più riusciti sull'America pubblicato negli ultimi anni segnalo a questo proposito anche che suo marito il marito della Winship Georgiou ha fotografato ha fatto un progetto interessante che ha fotografato gli americani sui marciapiedi del paese cioè non ha fatto le foto alla gente che partecipava alle diverse parate perché ne fanno un sacco di parate negli Stati Uniti in Marte di Grasso 4 luglio Halloween ma proprio la gente ai lati ai bordi delle strade che guarda una foto indagativa sugli spettatori metterò il link sul podcast vedete che sono foto veramente interessanti perché sono di tableau vivant sono proprio dei quadri in vita e poi infine in quest'ottica di autori fotografiche che vanno a curiosare negli Stati Uniti con la macchina fotografica buon ultimo ma non ultimo c'è Mark Power che ha pubblicato un primo libro di una serie di 5 ideati quindi è un'idea è un work in progress perché attualmente ne è uscito uno solo e non tutto il materiale iconografico anche dei successivi è stato scattato in una lunga intervista rilasciata al blog del Washington Post Mark Power ricorda di essere andato per prima volta negli Stati Uniti negli anni 80 e di aver avuto immediatamente l'idea che all'interno di questa nazione ci fossero vasti radicati enormi problemi come un'enorme palla di spago che si stava srotolando impossibile da affermare riandando nel 2012 l'incongruenza di un paese che si colloca ai vertici della catena economica allo stesso tempo ospita sacche sempre più grandi disuguaglianze gli è balzato all'occhio e ha cercato direi benissimo di riportarci attraverso le foto questa situazione l'intervistatore all'interno del blog dice sono rimasto colpito dal titolo del libro Good Morning America esso tende ad avere una tendenza più positiva mentre il lavoro sta dando uno sguardo realistico allo Stato degli Stati Uniti oggi uno Stato che tende ad essere giudicato in modo molto più negativo a prescindere dall'orientamento politico dei lettori perché questo titolo? le ha risposte Power è un titolo volutamente ambiguo per cominciare volevo qualcosa di non specifico dato che il lavoro non è destinato a riguardare un argomento specifico volevo invece essere il libro di fotografare qualsiasi numero i soggetti che riguardano tutti gli altri l'aggiunta di una virgola sì perché il titolo del libro è Good Morning virgola America è di distanziarlo un po' dall'omonimo programma televisivo Good Morning America vi ricordate il famoso film e suggerisce oserei dire una sorta di dolce risveglio da un sonno profondo lungi da me straniero suggerire che si tratta di una sorta di campanella d'allarme ma poi l'autoristatore dice fa presente che si parla molto del clino dell'America dall'insorgere problemi di razzismo antisemitismo guerra di classe l'autore conferma mi pare che il declino sia nato da decenni anche se non sono un chiaro sostenitore del presidente del suo buio che il draconiano dice questa è un'idea politica che non sia sia ingiusto dare interamente la colpa a lui fa un paragone fra il suo primo viaggio nell'84 e nel 2012 e ho pensato che nell'80 l'America è la lettura più divisa effettivamente il mio viaggio negli Stati Uniti risale alcuni anni dopo una decina di anni dopo però effettivamente si aveva già l'idea vedendo le famiglie vedendo le scuole vedendo le gite scolastiche che ad esempio l'elemento razziale era ancora un qualcosa di non soppito e di presente la forza trainante dell'imperialismo dice il power imperialismo culturale che l'America ha esercitato nel Regno Unito durante gli anni 60 e 70 è evidente i programmi erano americani quindi nasce un'ossessione per tutto il mondo occidentale anche per il fotografo che non lo lascio più le vaste pianure del western in particolare hanno avuto un effetto particolare su di me ed è una ricerca di quest'America chiaramente fittizia che mi spinge in avanti inevitabilmente mi trovo di fronte a una serie di delusioni quando vado a cercare i miei lunghi viaggi negli ultimi tre anni ne ho fatti quasi 4 ogni 12 mesi sono stati scelti per una serie di motivi diversi tuttavia per generalizzare tendono a ruotare intorno a luoghi che già evocano un'immagine nella mia immaginazione attraverso canzoni libri televisione o film bene spero di avervi incuriosito se volete vedere le immagini di Mark Power troverete il link nel a corredo di questo podcast www.photography.podbean.com oppure sul blog photographypodcast.wordpress.com io vi ringrazio molto vi ricordo che potrete ascoltare questo podcast anche sulle piattaforme che da oggi ci ospitano Spotify e iTunes e vi auguro buona luce a tutti